Lacrime di Luxuria e il segreto scioccante finalmente svelato. La commozione di Vladimir Luxuria alla fine dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi ha suscitato un'ondata di interesse e speculazioni da parte del pubblico e dei media. Molti si sono chiesti quale fosse il motivo dietro le lacrime della conduttrice, e ora sembra che la risposta sia stata finalmente svelata appunto durante la trasmissione. Luxuria ha espresso il suo attaccamento al programma, definendolo importante e sottolineando che era la sua prima volta a condurre un evento di tale portata. Tuttavia, sembra che le sue parole siano state influenzate da recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi riguardo al lavoro svolto sul Grande Fratello e sull'Isola dei Famosi. Le parole del dirigente Mediaset hanno gettato ombre di dubbio sull'operato della conduttrice e del programma. Con Berlusconi che si è detto soddisfatto del lavoro sul Grande Fratello ma insoddisfatto per quanto riguarda l'Isola dei Famosi. Questa critica pubblica potrebbe aver pesato sull'autostima di Luxuria e sul senso di realizzazione legato al suo impegno nel condurre il programma. La commozione di Luxuria potrebbe quindi essere stata causata dalla frustrazione di non essere riuscita a soddisfare le aspettative o a ottenere il plauso desiderato, nonostante il suo impegno e la sua dedizione. Questo momento di vulnerabilità ha reso più tangibile la pressione e le sfide che Luxuria ha affrontato nel ruolo di conduttrice, suscitando empatia e comprensione da parte del pubblico punto nonostante le critiche e le polemiche che hanno caratterizzato questa edizione dell'Isola dei Famosi. Luxuria ha chiuso il programma con gratitudine verso il pubblico e il team dietro le quinte, sottolineando l'esperienza positiva che ha vissuto. La sua commozione finale ha aggiunto un tocco di umanità e sincerità a un'edizione del programma che ha visto alti e bassi, confermando ancora una volta il suo posto nel cuore del pubblico televisivo italiano punto nonostante le critiche e le sfide incontrate lungo il percorso. Luxuria ha dimostrato una notevole determinazione nel gestire il programma, mantenendo un atteggiamento professionale e rispettoso verso i concorrenti e il pubblico. La sua commozione alla fine della trasmissione ha rappresentato un momento di vulnerabilità autentica, che ha reso tangibili le pressioni e le aspettative che gravano sulle spalle di chi lavora nel mondo dell'intrattenimento televisivo punto la reazione del pubblico e dei media alla commozione di. Luxuria è stata variegata. Alcuni hanno espresso solidarietà e sostegno, riconoscendo il duro lavoro e l'impegno della conduttrice, mentre altri hanno continuato a sollevare domande e critiche sulle dinamiche del programma e sulle prestazioni della conduttrice stessa punto indipendentemente dalle opinioni contrastanti. L'isola dei famosi ha rappresentato per Luxuria una sfida significativa e un'opportunità di crescita professionale.